Un atto di pirateria che non ti aspetti, perché a violare le regole internazionali di navigazione aerea, è lo Stato. Dopo il dirottamento del volo Ryanair, scortato da un caccia dell'aviazione militare bielorussa verso Minsk, cresce la richiesta di sanzioni internazionali contro la Bielorussia. Il primo ministro lituano ha deciso di vietare a tutti gli aerei in partenza dai suoi aeroporti di sorvolare lo spazio aereo bielorusso. Un'azione eclatante, quella dell'atterraggio forzato, decisa dalla Bielorussia per arrestare Roman Protasevich, giornalista che ha denunciato i brogli del 2020, che hanno portato all'ennesima rielezione dell'autocrate Alexander Lukashenko. Protasevich volava con la sua fidanzata sul volo Ryanair. Penso che Lukashenko stia inviando una serie di messaggi. Il primo è che non gli importa più cosa pensa la comunità internazionale. Il secondo un messaggio involontario su quanto si sente insicuro e in aggiunta, e a causa di questo, sul fatto che nessuno è al sicuro dalla portata delle repressioni bielorusse. Mosca, alleata storica di Minsk, invita alla calma, mentre su richiesta dell'alto rappresentante Joseph Borrell è stato convocato l'ambasciatore bielorusso presso l'Unione Europea Alexander Miknevich. Siamo favorevoli a valutare questa situazione senza fretta, sulla base di tutte le informazioni disponibili, dice il ministro degli esteri russo Lavrov, soprattutto perché un rappresentante del ministero degli esteri bielorusso ha sottolineato la disponibilità delle autorità ad agire in modo trasparente. La prima risposta arriva da Bruxelles, con la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che ha annunciato il congelamento di 3 miliardi di aiuti alla Bielorussia.